Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui con due miei compagni Ovvero questi due E quello che sto guidando è il solito amico che ho qui da tre anni praticamente Solo che ha cambiato scooter E non diciamo sotto questo scooter cosa c'è perché è meglio evitare Mi gratta le p*** le porca bestia Oh Quella dietro sta congelando Oddio Beh pure io qui non è che si è messo molto meglio Bravo che si ricorda che dobbiamo andare a sinistra Dai all'esterno come l'altra volta Cioè oh non passa mai nessuno Cioè vabbè Oh carabinieri dietro Oh abbiamo i carabinieri dietro Eh sì Vabbè comunque adesso siamo praticamente arrivati Ok siamo arrivati Come avete visto adesso sono uscito da scuola E sto tornando a casa Qui dietro ci sono come al solito i miei due compagni Non so se li avete visto Viste visti Ma zio Ma zio Ma zio Ma zio Ma zio Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti.